Siamo a una riunione aziendale e le persone parlano, ognuno prende parola e c'è chi parla e coinvolge maggiormente, quindi emana un carisma che invece non emanano altre persone che non riescono a interessarci. Com'è possibile questo? Ebbene, ci sono persone che promanano autorevolezza. L'autorevolezza allora è una percezione nella mente di chi ascolta. Cioè noi diciamo, ah, quella persona è autorevole. Ma in realtà noi non possiamo decidere di essere autorevoli. Ma allora come facciamo ad essere percepiti tali? Perché ricordiamoci che una persona autorevole viene percepita come autrice, autore, autorevole, autrice o autore di ciò che sta dicendo. E quindi ha un suo fascino speciale. Per fare questo dobbiamo lavorare sulla vicinanza umana. E qui ci viene in aiuto la prossemica. Questa parola sta a indicare la scienza che si occupa delle relazioni umane in funzione dello spazio. Ma durante una riunione siamo tutti seduti o sedute a un tavolo. Quindi la distanza è quella. Non è che la posso sempre variare. Sì, certo, potrei alzarmi in piedi, spostarmi, raggiungere le persone mentre parlo. Ma supponiamo di non poterlo fare. Supponiamo cioè che mi posso semplicemente rivolgere alle persone con lo sguardo. E allora come facciamo? Possiamo regolare la prossemica, quindi la vicinanza alle persone, utilizzando la postura del corpo. La postura cioè la posizione del nostro corpo, cioè del busto in particolare, rispetto alle persone. La postura va a determinare allora la percezione di noi quando stiamo parlando. Pensate al cinema. Pensate a un personaggio che a causa della sua postura emana tutt'altro che autorevolezza. Ed è Fantozzi. Fantozzi che ha questa postura chiusa in se stesso e che quindi è il tipico personaggio che dà un senso di totale insicurezza, chiusura in se stesso e quindi non lo ascoltiamo perché non è interessante. Quando una persona invece si pone con uno sguardo slanciato in avanti e con un petto bene prominente, ecco che ci sembra più interessante. Ci sono anche ricerche scientifiche su questo. Magari poi vi lascio un link in descrizione su un articolo che ho scritto in proposito. Allora che cosa possiamo fare? Beh, prima di tutto dobbiamo lavorare non tanto sulla percezione delle altre persone, ma sulla nostra percezione di noi stessi quando parliamo. Perché? Perché non possiamo controllare ciò che avviene emotivamente, sensorialmente, alle altre persone, mentre noi stiamo parlando. Ma possiamo avere coscienza di noi stessi. Oggi vi do un esercizio pratico per imparare ad avere coscienza di voi stessi mentre state parlando. modificare allora la vostra postura migliorando la prossemica, cioè la distanza spaziale con le persone, quindi farle sentire più vicine nonostante di fatto non vi avvicinate. Vi chiedo allora di presentare voi stessi oppure presentare un tema che vi sta a cuore nel giro di un minuto, due. Sono sufficienti questi tempi. Vi presentate prima di tutto in questa postura. Io la chiamo postura AC, quindi seduti, sedute, le mani sono abbandonate sulle ginocchia e assumendo con il busto una C, quindi chiudendovi in voi stessi. Lo sguardo è rivolto verso il basso, così come sto facendo io adesso. e parlate in questo modo, vi presentate. Questa è la versione A. Potete farlo adesso, se lo volete fare mettete in pausa il video perché subito vado a presentarvi la seconda postura. La seconda postura è completamente diversa, quindi ci decizziamo, cioè ci togliamo da questa figura della C, quindi da così, ci apriamo. Per farlo dobbiamo anche aprire le braccia in questo modo, in modo tale che sciogliamo la posizione, poi abbandoniamo di nuovo le braccia, ci sediamo, attenzione molto importante, in punta di sedia, ci spostiamo in avanti, in punta di sedia, alziamo il mento e quindi alziamo lo sguardo. e il petto è più aperto. A questo punto rifacciamo la presentazione di prima, quindi presentiamo noi stessi o parliamo di un contenuto che ci interessa. Fatto questo, facciamo delle considerazioni. Che differenza avete sentito fra la prima versione e la seconda versione? Cioè, versione a C e versione invece più slanciata e, attenzione, in punta di sedia. Differenza in che cosa? Differenza nelle sonorità che avete prodotto. Differenza anche nelle vostre sensazioni, nel piacere dello stare a C o nel piacere dello stare in quest'altra posizione in punta di sedia più slanciati e aperti. Piacere o dispiacere? Quando fate queste considerazioni, evitate di fare generalizzazioni. Esempio, beh, nella postura A, C è chiaro che si sente no, no, questo non va bene. Perché? Perché non state lavorando davvero sulla vostra esperienza unica e irripetibile. Perché alla fine, l'autorevolezza è il risultato di una propria autopercezione mentre noi stiamo parlando. Deve essere estremamente concreto. Per cui, usiamo il passato prossimo. mi sono sentita così, mi sono sentito così, ho avuto questa percezione, ho avuto quest'altra. Andiamo ancora più in profondità. Il lessico delle due versioni è stato identico? C'è da dire una cosa, che la seconda versione è appunto una seconda versione, cioè è una seconda prova dopo aver fatto la prima. D'accordo? Ricordiamoci che c'è anche questo fattore in gioco. Ma la postura ha cambiato anche la mobilità del diaframma, questo muscolo orizzontale che ci permette di respirare per mandare con più forza il suono della nostra voce. Ed è cambiata completamente la relazione umana. Questo è inevitabile. Ebbene, il lessico ne ha risentito? Valutate anche questo. Volete fare una verifica? Ebbene, lo potete fare con una persona che voi conoscete, lo fate con un collega, una collega, un collaboratore, collaboratrice, ma anche con un affetto. Chiedete di fare la stessa cosa, di presentare se stesso o se stessa nelle due posture, a C oppure in punta di sedia slanciata. E sentite le differenze. Come ascoltatori e ascoltatrici, che cosa vi arriva? E poi fate le stesse domande che ho fatto io a voi. Come ti sei sentito, sentita? Che cosa hai provato? Che cosa hai pensato? E che lessico ti è uscito nelle due versioni? Lavorate su questo. Se volete potete scrivermi anche qui sotto come è andato e che cosa avete scoperto, perché è una vera e propria ricerca. La domanda a questo punto è come parlare in modo davvero efficace? Cioè come impostare un discorso in modo efficace anche improvvisando? Ebbene su questo c'è già il video e lo trovate qua sopra. Poi io sono Stefano Todeschi, sono consulente in Public Speaking Pratico, mi occupo proprio di questo e se avete voglia di fare pratica con me lo potete fare in consulenza con me. Qui c'è il secondo link e vi spiego tutto. A presto!